in forma regolare l'ultima curva prima del rettivinio conclusivo prima dell'arrivo sul traguardo che sta per verificarsi in qualsiasi istante con il tempo del primo è 52,95 52,95 36,95 i finalisti del Gifre 30 i finalisti da Gifre 30 il nostro posto si lleva a Doverini, M9, 990, per i suoi sottotitoli e Morelli, Nicola. Questa è l'ultimo giro, anche da questa scuola, la sua parte via. Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! No, non, 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 non... Non, 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 non... Il contratto di percorso anche per questi attristi che vanno a fermare i cronometri e a consigliare loro un tempo di rispetto di 51 di 83. Il contratto di percorso anche per i cronometri. 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 la possibilità con le felice della Giulia brava Giulie donna indietro siamo al passaggio dell'ultimo giro a forma di avere una grande importanza del tempo a di là del piazza lì con il mistero della propria batteria è totalmente il tempo perché con i 3.6 a superare il turno e a più che disputare la fase finale di questa gara la terza della gara già sulla rettilineo finale nella prossimità del traguardo quindi il tempo di prima di stop per questa batteria trovo a che farci in questo momento anche per queste atleti vediamo di spiegare avanti a oltre per questo istante prende la guida la giusta le pecca della rubina di Gnarrà che sta avanti attaccata a casa in questa fase di gara dalla trenta Vittorio Crenza della suona in line che si è praticamente intramata alle spalle vediamo le volte la situazione allo portaggio dell'ultimo giro più o meno le palle sempre la concorrente si va giusta a guidare in seconda posizione di centralità le peste vai vedi di Gnarrà occupare la terza posizione di Caranova Stusena perché entrano nell'ultima pergo in questo momento c'è stato intanto l'avvicinamento all'elogazio la volta finale lo spese e l'arrivo sul traguardo proprio in questa istanza che va a chiudere in due non so se sei in giunto qualcuno per l'ultimo minuto no sono in tre guarda di partita la finale Seniors per i 1.500 metri sprint gara che viene disputata da queste due atleti che veniamo sul percorso di gara di Gnarrà di Gnarrà e di Montiero a lice a prendi che stanno per a Biasca a superare da Biasca in due giri alla confusione che mi farò da vedere lo spino della Cappana questa a questa tra queste due concorrenti a prendere la guida da carico con un agente oriminalista della politica di Gnarrà di Gnarrà di Gnarrà di Gnarrà di Gnarrà e inseguita da Montiero in cessione di attraversaria nello svolgimento di questa finale sui 500 metri iniziamo all'uscita della curva pronte dunque per lo sprint conclusivo alla rata finale c'è un arrivo sul l'antraguardo che vive anche la prima finale in metri grazie